Eccoci a Cogullo, Tommaso Fina proviene dal luco dei marzi in Becci, oggi, 6 aprile 2024, quindi sto scendendo qui dalla montagna, dove ho fatto il 3 km di scesa, a farmi ingrandire un attimo, questo è Cogullo, si scende per circa 3 km, arriviamo a Casale, ancora più giù da Cogullo, sotto 5 km, all'inverso degli Abruzzi, eppure Casale fa frazione di Cogullo, ma fa più abitanti di Cogullo, forse 20, 30 o 40 abitanti di più, bellissimo Cogullo, adesso arriva la festa del 1 maggio, qua c'è un'idea dirigente.